Verso la mezzanotte, mezzanotte e mezza, il cucciolo non si trovava più, poi pian pianino con le moto d'acqua e con l'ausilio di canoa siamo riusciti a ritracciarlo dall'altra parte del porto questa volta. Adesso è lì tranquillo, non so se si riesce a vedere, comunque sta nuotando, sta aumentando l'apnea, però comunque è abbastanza tranquillo per adesso. Grazie. 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 Grazie.